Buongiorno, benvenuti alla conferenza stampa dedicata al Glocal Film Festival, una realtà che esiste già come Piemonte Movie da diversi anni, da più di vent'anni anzi, ma negli anni è cresciuta, si è evoluta, si è arricchita, diventando un punto di riferimento importante per la promozione e la diffusione del cinema in Piemonte. Questo anche grazie, bisogna dirlo, ad uno straordinario lavoro fatto con tutte le altre realtà del sistema cinema piemontese, ma anche con un lavoro capillare anche a livello nazionale. Ecco, diciamo un ulteriore segno di rinnovamento del Glocal è stato quest'anno un cambio di direzione, infatti alla guida del Glocal da quest'anno c'è la regista e sceneggiatrice Alice Filippi, che oggi è la sua prima uscita pubblica, potremmo dire, no? E siamo molto felici che ciò avvenga proprio nell'ambito del Torino Film Festival, che ormai da anni con il Glocal ha, possiamo dire, un rapporto speciale. Quindi ecco, benvenuta da Alice Filippi e benvenuto anche ad Alessandro Gaido, presidente di Glocal e Piemonte Movie, insomma. Io darei subito, diciamo, la parola ad Alice Filippi, perché la prima domanda è abbastanza, diciamo, d'obbligo. Ci dica tutte le novità che questo cambio di direzione porterà proprio al Glocal, che comunque è una macchina, come dicevamo, già molto ben rodata, oliata, che esiste da tanti anni. Sono molto contenta di essere qua oggi, qua al Torino Film Festival, in questa nuova veste da direttore artistico. Per me è una novità assoluta, perché ho cominciato a fare altro e questa occasione, che è arrivata da Alessandro totalmente inaspettata, è stata accolta, insomma, molto bene. Ho detto, proviamo, mi piace mettermi alla prova e secondo me questo è un bellissimo ambito. Noi con Alessandro ci siamo conosciuti con Movie Tellers qualche anno fa, perché il mio primo documentario, che tra l'altro era stato presentato al Torino Film Festival, è stato scelto da Movie Tellers per, insomma, questo tour nei cinema. Il documentario era 78 vai piano ma vinci e io ho avuto l'occasione di conoscere Alessandro e poi anni dopo mi ha richiamata per questa avventura. Che cosa vorrei fare con il Glocal? Intanto credo che il Glocal sia molto importante perché dà spazio agli artisti locali. Dobbiamo farci forza, ci sono tantissime realtà molto interessanti, molto belle e dare spazio a giocare in casa, è sempre difficile giocare in casa, no? Essere profetti in fatria è difficile ma noi, secondo me, il Glocal deve dare, insomma, accogliere e dare spazio agli artisti per poi lasciarli andare e poi riprenderli, magari col Torino Film Festival dopo, cioè noi dobbiamo lanciarli, ecco. La nuova direzione vuole essere pop e nel senso pop vorrebbe mettere insieme tutte le arti e gli artisti che abbiamo qua in Piemonte. Già nella giuria abbiamo cercato di unire le forze. Abbiamo nel cinema la presenza di Marco Ponti, regista, sceneggiatore, che sarà il presidente della giuria dei documentari, chi meglio di lui che quest'anno tra l'altro esordisce col documentario La Bella Stagione proprio al Torino Film Festival. Nella giuria invece dei cortometraggi abbiamo Valerio Berruti come presidente della giuria, lui è artista, arti visive e non solo e abbiamo anche Eugenio Cesaro, degli Eugenio in via di gioia e quindi volevamo proprio unire anche la musica perché tutte queste sono arti, secondo me, molto importanti. Prima di passare la parola ad Alessandro, volevo chiederti una cosa adesso mentre parlavi. Come mai avete scelto un artista per, diciamo, presiedere la giuria dei cortometraggi? Ecco, un artista importante come Berruti appunto. È un segno proprio anche di una nuova concezione, no? Di percorso che vuoi fare. Sì, Valerio, guarda, è stata una conoscenza inaspettata, l'ho conosciuto e lui oltre ad essere un... è proprio un personaggio glocal perché è langhetto, cioè neanche piemontese, è langhetto proprio, quindi dalle langhe però espone in tutto il mondo e oltre ad aver fatto delle opere straordinarie, tra l'altro quest'anno ha rifatto totalmente la piazza d'Alba con questa scultura che è la scultura più alta d'Europa, si chiama proprio Alba. Lui ha fatto anche dei cortometraggi, uno dei quali è stato La giostra di Nina, musicata da tantissimi artisti, fatta per beneficenza, è un cortometraggio d'animazione fatto con i suoi disegni e avrà delle sorprese che scopriremo più avanti per noi, ecco, sempre nell'ambito visivo. Alessandro, anche un commento su questo appunto novità, su questa direzione nuova che prenderà il glocal. Ma sì, grazie Caterina, quando ci siamo confrontati a livello anche di direttivo dell'associazione Piemonte Movie per dare una svolta, per dare diciamo, credo che ogni tot i festival abbiano bisogno proprio di rivoluzionare tutto per ripartire, rimettersi in gioco, era appunto una delle figure che stavo seguendo da tempo, Alice, perché ha tutta una serie di caratteristiche che si abbinano perfettamente con quello che è lo spirito, diciamo, associativo, cioè lo spirito glocal, il pensare globale e l'agire localmente. Non l'ha detto lei, ma faccio un accenno, Alice ha un'esperienza cinematografica fatta di studi a New York, quindi all'estero, in giro per il mondo, poi ha fatto l'assistente a tantissimi registi, tra cui, diciamo, uno su tutti, Carlo Verdone, quindi un'esperienza nazionale, direi, molto forte ed è diventata autrice lei stessa, quindi avendo però sempre i piedi ben piantati nel territorio, nella sua Mondovì, non l'ha mai lasciata, va su e giù come una trottola tra Roma, ogni tanto ci sentiamo domani sono a Roma, poi torno su e sempre su e giù per l'Italia e non solo, però ha questo legame forte col territorio, lo dimostra anche le scelte secondo me che ha fatto riguardo appunto la selezione che sta facendo della giuria, tutti i personaggi, come diceva Alice, veramente local, cioè collegati al territorio, che hanno un forte legame al territorio, ma allo stesso tempo con una visione globale, con una visione internazionale, non solo nazionale, sotto alcuni aspetti, quindi era la figura tra le tante, perché per fortuna, lo sai anche te Caterina, abbiamo tantissimi professionisti bravissimi qui in Piemonte, però era la figura che ritenevo insomma di proporre al direttivo come una svolta epocale per il Global Film Festival, che ha sempre avuto, fino alla scorsa edizione con Gabriele Diverio, ha sempre avuto figure interne al gruppo, diciamo, chiamiamo il gruppo dirigente dell'associazione, invece abbiamo fatto proprio questo salto, ci siamo staccati, tutti quanti continuano a dare una mano ad Alice per raccontargli i segreti e i lavori che noi abbiamo fatto in questi anni, però lei ci porta una ventata d'aria nuova. Anche questa è stata una scelta glocal proprio, nell'idea di guardare all'esterno, tenendo però i piedi ben piantati nel territorio. Ci sono domande? Ecco qui, aspettiamo il microfono. Sì, buongiorno, volevo chiedere quale, pensate che siano le maggiori tendenze dei registi in Piemonte, quali sono gli obiettivi, le linee che si stanno un po' aprendo in questo periodo per quanto riguarda il cinema locale? Grazie. Io credo che sia importante, sento molti registi che cercano di raccontare storie glocal, cioè di raccontare storie che conosciamo che partono dal nostro territorio, perché solamente noi le possiamo raccontare. Io dico sempre che i grandi streamer, Netflix, Amazon, quando cercano delle storie in Italia vogliono delle storie italiane con registi italiani e quindi noi le facciamo la stessa cosa, per loro il glocal è l'Italia, per noi il glocal è il Piemonte e secondo me io vedo tanti registi che stanno cercando delle storie vicine a loro che possono raccontare, chi è il meglio può raccontare le storie che conosce, perché poi arriva sempre qualcuno da un'altra parte e ci racconta una storia che noi conosciamo meglio e poi diciamo ma caspita perché non l'ho raccantata io questa storia, che avevo anche l'occhio giusto, avevo anche un background per poterla raccontare, quindi noto che ci sono queste, almeno io ho notato questa cosa e credo che sia anche la chiave per un regista, non andare a cercare chissà dove ma cerca in casa che tante volte ci sono delle storie molto interessanti. Non so se Alessandro vuoi aggiungere qualcosa. No, credo che abbia già letto sostanzialmente tutto te, sicuramente c'è una una grossa effervescenza nella nostra regione, questo lo sappiamo tutti, cioè abbiamo credo la, se non vado errato, la prima film commission fondata in Italia, dalla quale poi molti si sono ispirati, abbiamo il Museo Nazionale del Cinema che è uno dei migliori musei, credo che molti degli ospiti del TFF l'abbiano detto in tutte le salse in questi giorni, uno dei migliori musei al mondo, non solo in Europa, abbiamo veramente un background e un crogiolo di possibilità per poter esprimere una cinematografia nostra più forte. Molte volte, ma nel corso degli anni questo si sta un po' affievolendo, all'inizio siamo stati tra virgolette colonizzati da Roma, nel senso che venivano a girare qui, portavano tutte le loro truppi, il loro staff e passavano e andavano via. Nel corso del tempo si sono create tantissime figure professionali, forti e le truppe che arrivano anche, non solo da Roma ma anche dall'estero, trovano qua una squadra, uno staff, un sistema cinema dove possono muoversi in totale tranquillità, raccontando anche, come diceva Alice, delle storie locali che però hanno una visione globale e sono fruibilissime, vendibilissime in tutto il mondo. Ci sono altre domande? Buongiorno, tra le nuove leve la presenza femminile è forte, più forte di prima? Sì, sicuramente questo è un periodo in cui l'essere donna, insomma, si cerca, si dà spazio all'essere donna. Io penso sempre, forse anni fa, una ragazza che dicevo voglio farla regista e in più io ho tre bambini, quindi proprio, no, sarebbe stato impossibile, molto difficile. Invece credo che adesso ci sia un'apertura, una grande apertura addirittura le case di produzione mettono in conto di avere a una figura femminile, alla direzione e questo secondo me è molto bello. Io credo sempre nella meritocrazia in generale, cioè bisogna essere bravi, uomini, donne, che si è, perché bisogna, insomma, per raccontare delle storie c'è tanto impegno e bisogna avere anche l'esperienza per poterlo fare, però a parità di bravura, secondo me è bello avere spazio perché ognuno di noi ha una sensibilità diversa ed è bello vedere, insomma, anche per le nuove generazioni dire ecco, ci sono delle figure femminili, si può fare, perché no? Ecco. Sì, poi giustamente mi collego a quello che stavi dicendo, bisogna lavorare su una cultura che permetta anche appunto alle donne di pensare se io questa cosa la posso fare e dare le opportunità e allora... Esatto, dare fiducia e anche secondo me dire alle ragazze che sognano di diventare registi, dire i no arrivano per tutti, cioè uomini e donne, cioè prima di essere qua ci sono stati tantissimi no e ne me ne arriveranno ancora tantissimi, quindi non è che ad un certo punto perché fai un film i no non arrivano più, cioè sulla mia pelle vi posso dire che no arrivano comunque. L'importante è essere secondo me saldi e lavorare, migliorarsi perché uno... e anche non sentirsi discriminato perché certe volte uno pensa, dicono di no perché invece no, dicono di no magari il progetto non funzionava, certe volte ci vuole il progetto giusto, il timing giusto, ci vuole... i pianeti devono essere allineati nel momento, cioè certe volte è un allineamento di pianeti, no? Certi progetti funzionano per quello, però ecco di non avere... di non sentirsi discriminati nessuno e di andare avanti e di portare i propri progetti. Alessandro vuole aggiungere... Volevo aggiungere una cosa, per quello che è la nostra visione, insomma la nostra panoramica sul cinema regionale, credo soprattutto nelle nuove generazioni che veramente questa discriminante tra uomo e donna sia sempre più labile, ma proprio nei rapporti interpersonali anche tra ragazzi soprattutto, cioè non c'è più, per fortuna mi viene da dire, insomma questa discriminante sta cadendo nelle nuove generazioni e non c'è mai il discorso, ah ma sì lei è una regista donna, no? Cioè il regista lavora bene o lavora male e punto, cioè questa sovrastruttura direi novecentesca si sta esaurendo, insomma. Tra gli ambiti diciamo su cui il Glocal ha sempre lavorato e anche in qualche modo focalizzato la sua attenzione, diciamo un ruolo speciale l'ha sempre avuto anche il documentario, adesso voi avete un nuovo progetto che si chiama Professione Documentario, ce ne parlate? Di che si tratta? Sì, se accenno qualcosa, io poi lascio a te invece la parte diciamo di oggi pomeriggio collegata. Ma il progetto Professione Documentario si inserisce, come dicevi prima te Caterina, in questo lavoro di sistema che Piemonte Movie sta facendo da anni sul territorio. Noi cerchiamo di mettere in rete quello che, diciamo la vetrina del festival, ma poi soprattutto il lavoro di promozione e distribuzione dei lavori collegato in maniera molto forte, ed è il tema anche del festival di quest'anno, alle sale cinematografiche, che sappiamo insomma che ormai l'abbiamo detto, ridetto, ma non godono di buonissima salute in questo momento. Quindi Piemonte Movie ha costruito una rete nel tempo di sale cinematografiche, ma anche di paesi in cui queste sale cinematografiche si trovano, perché noi con i nostri prestigi cinematografici locali, nati nel 2010, il primo nacque a Cherasco, abbiamo creato dei ponti tra Torino e le altre realtà che fruiscono di cinema o fanno anche cinema nel resto della regione. Tra questi lavori, e vado a rispondere alla domanda che mi ha fatto Caterina, c'è appunto anche Professione Documentario. Professione Documentario è un progetto finanziato, questo è il terzo anno, dal Ministero, compreso Ministero della Cultura e Ministero dell'Istruzione, sono questi progetti che partono per fortuna in tutta Italia, questi bandi ministeriali che danno la possibilità di lavorare con le scuole, è un lavoro che è partito già prima di avere i fondi del Ministero, quindi a livello sperimentale già prima, e va a lavorare direttamente con le scuole nel periodo che precede il Glocal Film Festival. Partiamo a gennaio, quando chiudiamo la selezione dei documentari, vengono scelti tre lavori che i selezionatori ritengono più attinenti ai temi delle scuole superiori, in questo caso soprattutto, e vengono portati nelle scuole, insieme ai registi, insieme a dei professionisti che spiegano sia che così il documentario, sia poi dialogano con gli studenti sul lavoro che viene visto, e alla fine poi c'è anche un ritorno in sala, quest'anno peraltro di solito noi facevamo un lavoro molto forte su Torino e la provincia, e li portavamo poi per una mattinata, la mattinata conclusiva, il terzo documentario veniva visto al Cinema Massimo alla mattina durante il Glocal. Quest'anno sarà ancora così su Torino, ma abbiamo allargato il raggio e faremo la stessa cosa a Villarperosa, dove noi gestiamo un cinema, il Cinema delle Valli, e quindi anche lì ci sarà un punto di ritrovo delle scuole di quel territorio per visionare il documentario scelto, e a BRA, che è un'altra delle nostre attività e reti costruite sul territorio. In più faremo due appuntamenti sperimentali, e qua ne approfitto per lasciare la parola ad Alice, con un primo intervento proiettando il documentario di Alice anche a Ivrea e Mondovì, andiamo a casa della regista in questo caso Mondovì, per cominciare a costruire anche lì questa rete con l'ampliamento del progetto, speriamo, il prossimo anno. Alice, appunto, se hai da aggiungere rispetto al discorso che faceva Alessandro, poi raccontaci cosa succederà oggi pomeriggio nell'incontro, insomma, che ci sarà ufficiale al Torino Film Festival. Esatto, oggi pomeriggio ci sarà... Aspetti, magari prima facciamo... Ah, va bene, va bene, faccia la domanda. Prego, prego, sì, sì, prego. Anche perché avete parlato di Ministero, io sono uno studioso d'arte del Ministero, che è il primo sponsor, del Ministero Italiano della Cultura, e apprezzo molto, poi logicamente faccio articoli e relazioni nel Ministero. Professione documentari la ritengo importantissima, perché il cinema è arte, è cultura, e più che documentario c'è quasi nulla. Va bene fiction, certe volte anche banali, però sapevo di questa cosa come nel Ministero che mi avevano dato, promuovere questo lo ritengo una cosa veramente importante, perché il documentario storico, naturalista, qualsiasi cosa, è cultura, soprattutto anche per i giovani, perché approfondisce la conoscenza. E quindi volevo dire questo, che è un'idea, direi, fantastica. Grazie. Ben applicata però dai giovani. Grazie, sì, sì, l'idea è, ne approfitto appunto perché lei ha centrato il punto, noi con questo progetto puntiamo a fare due cose. Uno, un lavoro didattico per far capire ai giovani studenti che cos'è un documentario, che è veramente un mondo molto ampio. E due, anche un lavoro di orientamento professionale, perché può diventare una professione in qualche modo più agevole del fare fiction, è molto più rapida, molto più immediata, soprattutto perché a Torino abbiamo tantissime case di produzione di documentari anche. No, ma ce n'è tantissime. No, 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 ma non stavo facendo competizione. Sono proprio dei mondi diversi, però, e chiudo, Torino ha tantissime case di produzione di documentari. Quindi può diventare anche un lavoro futuro per alcuni di questi ragazzi che poi vorranno investirci. Alice, in chiusura, perché i tempi sono stretti. Oggi pomeriggio alle 5 facciamo questo incontro al Cinema Massimo, dove avremo una mezz'oretta, dove presenteremo la prossima edizione del Glocal. Ci sarà con noi come ospiti Marco Ponti, per la giuria dei documentari, e Eugenio Cesaro, degli Eugenio in via di gioia, in veste di rappresentante della giuria dei cortometraggi. e presenteremo il mio documentario Sic, che è il documentario che è stato scelto per professione documentario, sia perché presenta anche al pubblico me come direttore artistico, e secondo me anche un, secondo noi, un documentario giusto per i ragazzi, perché racconta la storia di un ragazzo con un sogno, un ragazzo che non era tagliato per fare il pilota. Ecco, l'eroe della porta accanto. Io penso sempre che Valentino Rossi sia un idolo al quale sia difficile immedesimarsi, perché lui è un extraterrestre. Invece Marco era quello che era troppo alto, che cadeva, che sbagliava, che era sbagliato, che gli toglievano la moto, che gli dicevano, tanto tu non vincerai mai un mondiale, e lui invece ha vinto il mondiale. Quindi racconta che i sogni devono essere perseguiti ed è faticoso perseguirli, perché non è facile, però circondandoci di persone che ci vogliono bene, ci danno forza e coraggio, ci si può arrivare. Quindi credo che sia una storia ispirazionale, spero per i ragazzi, che certe volte vedo che hanno pochi sogni, invece bisogna sempre sognare in grande, e poi chissà dove si arriva, però è bello finire grande. È vero. Vogliamo lasciarci proprio con questo auspicio. Grazie ad Alice Filippi e grazie ad Alessandro Gaido per essere stati qui e per averci fatto scoprire questa nuova veste del Glocka Film Festival. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te.